Tre buone ragioni per firmare questa proposta. La prima è che mettiamo alla prova l'articolo 11 del trattato che rappresenta un elemento importantissimo di democrazia dal basso e partecipativa. Il secondo elemento è che tocca un tema sensibile dell'Europa, cioè quello della disoccupazione e attraverso questa la si potrebbe rifinanziare attraverso un fondo ad essa apposito. Il terzo elemento è che è un provvedimento che guarderebbe al futuro, perché sarebbe indirizzato soprattutto alle giovani generazioni che oggi sono quelle che soffrono maggiormente la crisi e con questa gli elementi della disoccupazione.